nome luca maurizio soprannome sul fureo fino al 1999 era zeno con l'avvento del nuovo millennio zeno 2k perché perché un carattere affabile incline al dialogo bisognerebbe chiederlo a quel deficiente che me l'ha dato alle superiori per assonanza di cognome con lo sciatore zeno colò i tuoi tre hobby preferiti a parte il gioco direi viaggiare mangiare bene e non si può dire ci sono dei bambini a parte videogiocare viaggiare leggere e scrivere cos'è per te luca luca e andare nel paese delle meraviglie per cinque giorni all'anno e scoprire che esiste davvero un altro universo in cui mi piacerebbe tanto trasferirmi cos'è il gioco dell'anno colt express o più semplicemente il gioco più bello secondo noi che è uscito in italia quest'anno una competizione in cui si confrontano giochi nuovi e si spera esca il migliore sul mercato cosa deve avere un gioco per essere letto gioco dell'anno deve essere sufficientemente semplice per essere spiegato a tutti e sufficientemente complesso da non annoiare nessuno deve essere originale e deve essere divertente un gioco che avrebbe dovuto essere gioco dell'anno se ci fosse già stato il premio allora sicuramente ticket to ride carcassone come è nata la passione per i board game beh posso dire che giocavo fin da piccolo poi dal lego sono passato al tavolo e non mi sono più levato conoscendo sul fuori il tuo board game preferito puerto rico il tuo videogioco preferito non ho giocato tantissimo ma direi la serie di resident evil monkey island non smetteresti mai di giocare a difficile o carcassone o risico fate voi monkey island fammi una citazione fuggite sciocchi io sono la gomma tu sei la colla rigiochi mai a un gioco dopo averlo recensito si spesso non a tutti ma diciamo che uno su tre ci rigioco molto volentieri e molto solo se mi è piaciuto molto partecipi ai tornei sì soprattutto quelli di risico ma a volte anche di altri giochi un po più german come puerto rico no esulta per una vittoria yes non ho mai vinto board game ispirati a videogame giusto o sbagliato è giusto se permette di portare i giocatori da un versante all'altro è sbagliato se gli togli tutto il divertimento e lo rendi noioso quindi è un rischio sbagliato e videogame basati su board game esistono ancora più sbagliato resident evil o the walking dead resident evil walking dead la storia zombie preferita l'ho detto resident evil la guerra mondiale degli zombie di max brooks scrittore preferito ne abbiamo parecchi ci metterei n rice o chuck palani o che fate voi tolkien romanzo preferito vale discorso di prima cronaca di vampiri oppure fight club che come libro è ancora più bello del film il trono di spade fantasy o fantascienza due entrambe il numero preferito 42 cane o gatto gatto tutta la vita gatto se potessi vivere in un'altra epoca quale sceglieresti 42 42 l'ho già detto a quanti board game hai giocato in vita tua dunque superato il centinaio una ventina non di più ea quanti videogiochi se conto i coin op di quando ero ragazzino una quarantina direi 200 non di meno gioco di ruolo preferito on stage sicuramente dagli personaggio che ti è riuscito meglio non in on stage ma in un dnd avevo un mago caotico che si chiamava sauron volavamo bassi un ognomo inventore chierico di nome faro ambientazione preferita quella classica fantasy gioco di ruolo dell'anno quest'anno ha vinto nome nera e devo dire che un ottimo prodotto se lo merita esiste un gioco di ruolo dell'anno cosa deve avere di nuovo un gioco di ruolo oggi difficile deve avere un'ambientazione che interessi che non sia scontata e che avvicini più possibile e deve avere delle regole semplici e immediate che non allontanano esistono nuovi giochi di ruolo fai un saluto valar morghulis valardo eris facciamo una partita va bene